di tutti gli sport, non solo nell'atletica perché abbiamo fatto veramente grandissime cose e questo sicuramente ha spronato tanti giovani a voler iniziare a praticare sport nell'atletica abbiamo visto che c'è stato un boom incredibile e a me questo fa tantissimo piacere perché è un po' il mio obiettivo quello di riuscire a portare a casa i risultati per essere poi ad esempio per gli altri e spronare gli altri a fare sempre di più e credere in un sogno quindi è un mio compito che mi sono dato e quindi spero di riuscire a portarlo ancora per tanto tempo